Buongiorno, ben trovati al TG2000 edizione delle 12. Subito i nostri titoli. La grande paura del terrore scuote l'Europa ancora in fuga. Gli attentatori di Bruxelles a Parigi quattro arresti progettavano un attacco imminente allarme poco fa anche in Turchia alle sedi diplomatiche tedesche. Non si arresta alla marcia dei migranti. Il 1500 stanno per sbarcare sulle coste italiane. Oggi pomeriggio il Consiglio europeo per un negoziato con la Turchia sempre più difficile. Stipendi più ricchi. Cambiano le regole sul premio di produttività. Chi ha un reddito annuo inferiore ai 50.000 euro potrà avere fino a 2.000 euro senza ulteriori tassazioni. La speranza cristiana è una virtù umile e forte che non ci fa annegare nelle difficoltà della vita. Così il Papa Santa Marta in questi minuti Francesco in udienza privata con 3.000 studenti universitari in arrivo da tutto il mondo. Lo sentivate in apertura la grande paura per il terrorismo che scuote l'Europa dalla Francia al Belgio. A Bruxelles ancora in fuga i due terroristi scovati due giorni fa. La polizia non esclude altri blitz, la paura più grande a Parigi dove scattano le manette per quattro sospetti fondamentalisti islamici. L'accusa di cooperare a una possibile progetto di attentato. Il punto lo facciamo con Antonio Soviero. Vediamo. E' stata disposta la custodia cautelare in carcere nei confronti dei quattro sospetti terroristi islamici. Tre uomini e una donna arrestati. Ieri a Parigi le manette sono scattate all'alba in due circoscrizioni della capitale francese nel soborgo di Saint-Denis. Secondo fonti di stampa il più pericoloso dei quattro accusati di voler compiere un attentato imminente sarebbe un 28enne francese islamico radicale già noto ai servizi antiterrorismo. L'uomo fu arrestato nel 2014 mentre si accingeva a partire come combattente per la Siria. Condannato a cinque anni è stato poi messo agli arresti domiciliari lo scorso anno. La donna affermata sarebbe la sua compagna. Il ministro dell'interno Kasnev ha minimizzato la vicenda affermando che arresti di questo tipo vengono fatti tutti i giorni e precisando che 74 persone sono state fermate dall'inizio della 2016 perché progettavano azioni terroristiche. Ma la minaccia del terrore in Europa continua a insistere sull'asse Parigi-Bruxelles dopo i sanguinosi attentati di novembre nella capitale francese. In Belgio è ancora caccia all'uomo dopo l'ennesimo buco nell'acqua della polizia locale. I due presunti terroristi scappati sui tetti dopo la sparatoria di martedì pomeriggio al civico 60 di Roux-Doudrie nella grande periferia della capitale belga non sono stati ancora catturati. Nel covo al primo piano le teste di cuoio hanno ritrovato il cadavere di Mohamed Belkaïd, un 36enne algerino che soggiornava in Belgio illegalmente, un Kalashnikov, 11 caricatori, una bandiera nera dell'Isis e un libro sul salafismo. Gli agenti francesi e belgi si erano recati in questo appartamento per un controllo ma supponendo fosse disabitato visto che da tempo le utenze di gas e luce erano staccate. In realtà almeno tre uomini barbuti vi abitavano come si è poi scoperto anche grazie alle testimonianze dei vicini che evidentemente l'antiterrorismo non aveva sentito prima. Un'ora fa è stata chiusa l'ambasciata tedesca ad Ankara, il consulato tedesco a Istanbul, la misura disposta per una possibile minaccia di sicurezza per gli stessi motivi, chiusa anche la scuola tedesca a Istanbul. Secondo un messaggio diffuso ai residenti la decisione è giunta in seguito a una minaccia non verificabile in modo definitivo. In mattinata anche il corrispondente dello Spiegel in Turchia è stato accompagnato da un diplomatico in aeroporto perché lasciasse il paese in seguito alla posizione critica del giornalista e del giornale tedesco per cui scrive. Abbiamo avuto indicazioni concrete di un possibile attacco alle nostre rappresentanze tedesche in Turchia, ha detto il ministro degli esteri tedesco. La questione sicurezza si intreccia con l'emergenza. Migranti non si arresta all'esodo verso l'Europa, l'Italia in particolare. Nelle prossime ore sulle nostre coste ne sono attesi 1.500. 640 stanno per sbarcare a Pozzallo, altri 590 a Reggio Calabria, 270 a Lampedusa. Fermati anche due presunti scafisti. Gli sbarchi si compiono a pochissime ore dall'avvio del Consiglio Europeo, il terzo in un mese che da oggi pomeriggio tenta un negoziato proprio con la Turchia sulla gestione dei flussi verso l'Europa. Intesa che però pare sempre più difficile perché Ankara non chiede soltanto soldi ma soprattutto la libera circolazione di cittadini turchi in area Schengen. Poco fa la Corte di Giustizia europea ha stabilito con una sentenza che il regolamento di Dublino consente agli stati membri di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo più sicuro indipendentemente dal fatto che sia poi quello in cui la domanda è stata presentata. Andiamo in Brasile per le proteste legate allo scandalo che in questione travolge la presidente Dilma Rousseff intercettata in una telefonata nella quale avvisa l'ex presidente Lula che sta per nominarlo ministro così da garantirli un salvacondotto dall'inchiesta manipulite brasiliana. Seguiamo Giorgio Schiavoni. Dopo la monumentale protesta di Rio contro la presidente Rousseff di due giorni fa, stanotte i brasiliani sono tornati in piazza a scatenare l'indignazione e la notizia della nomina dell'ex presidente Lula a capo dello staff di governo. Come rivela un'intercettazione telefonica con questa mossa il capo dello stato Dilma Rousseff offre a Lula un salvacondotto per rallentare l'indagine e prevenire il probabile arresto del suo predecessore e mentore. Coinvolto in un'inchiesta su tangenti a Pretrobas, la società petrolifera di proprietà statale. In migliaia hanno manifestato stanotte nella capitale Brasilia davanti al palazzo presidenziale e al Parlamento con la polizia antisommossa che li ha contenuti ricorrendo a gas urticanti. Analoghe proteste spontanee hanno avuto luogo nella notte a San Paolo, il motore finanziario del paese dove è stata bloccata l'avenita paulista, il salotto buono della capitale economica del Brasile, a Rio de Janeiro e molte altre città. Il Brasile è in preda a un vero e proprio marasma istituzionale che vede contrapposti governo e magistratura. Sergio Moro, il giudice che sta svolgendo l'inchiesta più importante del paese, l'equivalente del nostro Mani Pulite, è finito nel mirino per aver intercettato le comunicazioni della Presidente della Repubblica e per averle per giunta divulgate al pubblico. Dopo il giuramento di oggi pomeriggio, Lula godrà di uno status particolare. L'inchiesta a suo carico non verrà più svolta da Sergio Moro, ma dalla Procura Generale e in caso di processo, esso non si svolgerà di fronte a un normale tribunale, ma davanti alla Corte Federale Suprema. Intanto prosegue il processo di impeachment della Rousseff per abuso di potere. Parliamo ora del referendum sulle trivelle. Gli italiani chiamati alle urne fra un mese esatto, domenica 17 aprile, ma il confronto su temi e quesiti procede ancora in sordina. Tutto questo mentre il Governo sembra orientato a battere la linea dell'astensione. Augusto Cantelmi. Mentre continuano le polemiche sulle amministrative di cui ancora non si conosce la data precisa, tra un mese esatto invece si andrà alle urne per decidere sulle trivellazioni del mare. Si tratta di un referendum abrogativo, motivo per cui il numero dei votanti deve superare il 50%. Un appuntamento importante dunque, passato finora piuttosto sotto traccia, soprattutto per volontà di governo e maggioranza che continuano ad avere una posizione ambigua né per il sì né per il no. Il Partito Democratico, infatti lo rivela, l'autorità per la comunicazione degli spazi informativi della campagna elettorale si schiererà per l'astensione. Una decisione questa che imbarazza e non poco i consigli regionali promotori della consultazione referendaria a livello nazionale, otto dei quali sono a guida PD, come la Puglia di Emiliano. Non mi risulta che il Partito Democratico abbia assunto nell'assemblea che si è svolta peraltro pochi giorni fa una decisione su questo punto così importante e nevalgico per la politica energetica del Paese. Quindi credo si tratti di un refuso burocratico. Trovo la posizione del Partito necessaria, ma ripeto, per quello che mi risulta non è ancora stata adottata. Quindi non vorrei che anche su questo si adottasse un po' quella tecnica di detto non detto che ha in qualche maniera inficiato un po' la credibilità del Partito su tutta questa vicenda del referendum. La cronaca ci porta adesso a Caserta per un'operazione di carabinieri e polizia contro il giro legato alla camorra sulle slot machine. Cinque i commercianti arrestati legati al clan dei Casalesi che letteralmente imponevano l'installazione delle slot machine in alcuni comuni del Casertano. Sequestrati beni per un valore pari a un milione di euro per tutti l'accusa di associazione mafiosa, concorrenza illecita e ricettazione. I cinque avevano il controllo in via esclusiva del giro delle slot nelle sale giochi e nei centri scommesse. Parliamo ora degli stipendi e delle novità in arrivo per i cosiddetti premi di produttività firmato dal Ministro del Lavoro. Il decreto attuativo che agevola la tassazione del 10% sui premi fino a 2.000 euro. Facciamo un po' di conti con Marco Bergamaschi. Buone notizie per chi guadagna meno di 50.000 euro l'ordi all'anno. Potrà infatti usufruire di un premio di produttività fino a 2.000 euro con tassazione agevolata e quanto prevede il decreto attuativo della legge di stabilità. Ecco in sintesi le principali novità del provvedimento. Si introduce un premio di produttività fino a 2.000 euro per chi guadagna meno di 50.000 euro l'ordi all'anno, come dicevamo, con tassi agevolate al 10%. Con questo prelievo nel portafoglio di ciascun lavoratore rimarranno circa 1.600 euro. Il premio potrà essere conferito anche tramite servizi di welfare, ad esempio servizi di asili nido, di mensa, borse di studio e assistenza ad anziani non autosufficienti. In tal caso il suo valore arriverà a 2.000 euro netti, introdotto alla possibilità per i datori di lavoro di utilizzare voucher. Il premio soggetto alla tassazione agevolata potrà salire fino a 2.500 euro se i contratti tra aziende e sindacato prevedono strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Si prevede un trattamento fiscale agevolato anche per la partecipazione agli utili dei dipendenti. Il premio di produttività dovrà essere concordato tra sindacati e imprese e legato ad obiettivi da raggiungere. Andiamo adesso in Vaticano per la giornata di Papa Francesco. La speranza cristiana è una virtù umile e forte che ci sostiene nelle difficoltà della vita, così il Papa alla messa di stamattina a Santa Marta, ma di tutti gli altri impegni di giornata del Pontefice in diretta da San Pietro ci riferisce Leonardo Possati. Leo buongiorno, ti ascoltiamo. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. In questo momento Papa Francesco si trova nell'aula Paolo VI e sta incontrando 3000 giovani studenti universitari arrivati a Roma da 115 nazioni e venuti a Roma per partecipare alle Olimpiadi delle Nazioni Unite promosse dalla Università di Harvard e da altri network internazionali. In questa settimana nella capitale questi giovani si sono cimentati con quelli che sono i grandi problemi del mondo di oggi, dall'ambiente alle guerre, ai problemi della finanza. A loro, Papa Francesco, a loro che rappresentano in qualche modo il futuro dell'umanità, il Papa ha voluto ricordare che la nostra forza come comunità poggia non sulla conoscenza e sulle abilità personali, quanto sulla cura e la comprensione degli uni verso gli altri, in particolar modo, ha detto Papa Francesco, nei confronti delle persone che non possono avere cura di se stessi. Al termine dell'udienza con il Papa questi giovani partiranno in una marcia, in una marcia con bandiere di ogni loro paese che attraverserà Roma, il centro storico di Roma, per arrivare al Colosseo quale segno della collaborazione per un futuro di pace che vogliono mettere in campo questi ragazzi. Dicevi tu Nicola, giustamente il Papa oggi nella messa, consueta messa a Santa Marta questa mattina, ha preso spunto dal Vangelo del giorno per parlare del filo di speranza che attraversa la storia della salvezza, un filo di speranza che inizia con Abramo e che finisce con Gesù Cristo. Ma ascoltiamo adesso le parole del Papa nell'Omelia di questa mattina a Santa Marta, al termine della lina può tornare allo studio. stesso Dio che nella pienezza dei tempi fa che quella promessa divenga realtà per tutti noi. E quello che unisce quel primo momento a quest'ultimo momento è il filo della speranza. E quello che unisce la mia vita cristiana, la nostra vita cristiana, di un momento all'altro per andare sempre avanti, peccatori, ma avanti, è la speranza. E quello che ci dà pace nei brutti momenti, nei momenti più bui della vita, è la speranza. La speranza non delude, ma è sempre così. È lì, silenziosa, umile, ma fo'. E vi do anche due ultime ore prima di chiudere. Poco fa il Senato ha approvato la legge che istituisce la giornata della memoria e dell'impegno contro le mafie. La giornata sarà celebrata il 21 di marzo, primo giorno di primavera. E ancora la Procura di Roma ha chiesto una condanna, due anni di reclusione per il senatore di Forza Italia, Denis Verdini, nel processo che lo vede imputato per corruzione nella vicenda dell'appalto per la Scuola Maresciali di Firenze. Le accuse sono di concorso in corruzione. Secondo il Pubblico Ministero ci sono le prove, soprattutto a livello di intercettazioni, per dimostrare che Verdini agì per ottenere la restituzione alla sua impresa del cantiere per la Scuola Maresciali attraverso un sistema corruttivo già messo in luce da un altro procedimento per il quale sono stati già condannati l'ex presidente Balducci del Consiglio Superiore per i Lavori Pubblici e l'imprenditore Piscicelli. Ci fermiamo qui. Ora c'è terza pagina, la rubrica culturale del TG2000. L'informazione ritorna, lo sapete, alle 18.30. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.